Sono terminate con il ritrovamento del corpo senza vita a Fermignano le ricerche di Renata Serafini, la 54enne scomparsa da casa nella serata di sabato. Una task force di uomini e mezzi l'ha cercata per ore con anche l'aiuto del nucleo cinofilo, dei sommozzatori per perlustrare il fiume ed anche di alcuni droni. Il corpo della donna è stato trovato questa mattina in una stradina poco lontano dal centro. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Saranno ora le forze dell'ordine a fare chiarezza sull'accaduto e a chiarire tramite gli accertamenti del caso se la donna abbia accusato un malore oppure se le cause del decesso siano legate ad altro. Sì esatto, sono stati tre giorni intensi di ricerca e quindi permetto di ringraziare innanzitutto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, ma tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato, i vari gruppi di volontariato, di protezione civile, Croce Rossa, Soccorso Alpino, che si sono andate a fare in questi tre giorni. Purtroppo l'epilogo, visto che abbiamo trovato Renata purtroppo deceduta, in questo momento chiaramente ci sono in corso anche le indagini del caso da parte dei Carabinieri di Fermignano. Ovviamente stiamo aspettando notizie ben precise anche per capire come purtroppo si è arrivata nella località nella quale è stata trovata, quindi ci sarà una ricostruzione del percorso. No, esatto, il sito dove purtroppo è stata ritrovata è molto vicino all'UCL, cioè quindi al posto dove appunto è stato fatto il campo base, sarà in circa un chilometro in linea d'aria e quindi non si è allontanata tantissimo dalla zona dove c'erano stati gli ultimi avvistamenti. Purtroppo con il fatto che comunque sia la vegetazione molto vigorosa ed è molto alta, il fatto dove è stata trovata, il fatto che poi ieri purtroppo ha piovuto in maniera molto importante, quindi ha limitato anche l'azione dei cani, delle ricerche anche dall'alto con l'usilio dell'elicottero, ovviamente ha limitato l'azione anche se lo spiegamento di forze e soprattutto la ricerca è stata molto molto intensa e è perdurata anche tutta la notte, quindi di conseguenza nonostante l'impegno così importante di forze non si è riusciti a trovarla purtroppo in vita.